Strategia e-commerce, il podcast con novità, commenti e interviste sul mondo e-commerce italiano. Ciao a tutti, sono Emilio Lodigiani e questa è Strategia e-commerce. Oggi parliamo di Facebook Libra, un progetto di cui probabilmente molti hanno sentito, una iniziativa di Facebook per creare una nuova valuta, qualcosa di diverso dal dollaro, dall'euro, dalla sterlina, che vada a servire come supporto per le transazioni e-commerce e quant'altro. Allora, per parlare di questo, siamo qui oggi con Luca Boiardi, che è amministratore di The Crypto Gateway, che è la community italiana di informazione e investimento sulle criptovalute. Ciao Luca. Ciao e grazie dell'invito, grazie di avermi chiamato insomma. È un piacere Luca, è un piacere. Piacere mio. Senti, allora, approfittiamo della tua esperienza nel settore per chiederti innanzitutto che cos'è Libra. Ma Libra è stata proposta, pubblicizzata come criptovaluta di Facebook, insomma la cosiddetta Facebook coin di cui si parla da tanto tempo, che infatti è, insomma, se ne sente parlare da molto, perché è nei progetti di Facebook da un paio d'anni ormai, da quando hanno iniziato ad assumere persone per esplorare il settore blockchain e per esplorare questa nuova tecnologia che unisce informatica e finanza, tecnologie e finanza per l'appunto. E la realizzazione di questi anni di investimento di tempo, di denaro e di tecnologia è proprio questa Libra e Calibra, che sarà l'applicazione Wallet, quindi il portafoglio con il quale si potrà gestire questa valuta che Facebook erogherà secondo le tempistiche inizialmente date a metà del 2020. e fondamentalmente questa Libra è un token, una coin, una valuta virtuale, perché io in realtà non mi sento molto di chiamarla criptovaluta in quanto non condivide i cosiddetti pilastri che una criptovaluta davvero dovrebbe avere. Quali sono? Ma i pilastri sono l'essere un sistema aperto, un sistema decentralizzato e un sistema pubblico, soprattutto. e Libra purtroppo si pone agli antipodi di questi pilastri, di queste caratteristiche, proprio perché innanzitutto ha dietro di sé Facebook, che è una grande azienda, un grande colosso e fungerà da uno dei cosiddetti nodi validatori, ovvero coloro che governeranno la blockchain sulla quale poi Libra si muove e gli altri nodi validatori saranno delle altre aziende, piuttosto che delle altre società di capitali. Ho sentito che sono entrati nel consorzio anche Visa, Mastercard, Uber, Paypal, molte aziende comunque del settore finanziario, del fintech, ma non solo, in realtà anche del settore dei servizi e delle infrastrutture. Sono entrate in questa Libra Foundation e in realtà nessuna di queste aziende ovviamente condivide i principi di decentralizzazione e di apertura che dovrebbe avere in realtà una criptovaluta. Quindi diciamo che questa Libra non è una criptovaluta tipo Bitcoin. Esatto, io non la definirei tale, anzi si pone in contrasto secondo me con Bitcoin, in particolare per quella che è la principale caratteristica di Bitcoin, ovvero la decentralizzazione, che è il motivo, che non bisogna dimenticarselo, per cui Bitcoin è nata. Libra in realtà è estremamente centralizzata, estremamente chiusa e estremamente privata, ovvero i nodi validatori della blockchain sono degli enti decisi e scelti dalla Libra Foundation e facenti parte della Libra Foundation. Quindi il controllo totale di questa rete è nelle mani della Libra Foundation. Così come la visibilità delle transazioni, quindi la possibilità di vedere chi ha mandato quanto a chi, è nelle mani soltanto di coloro che governano questa blockchain, al contrario appunto di una criptovaluta che se è prevista come tale, come ad esempio Bitcoin, dovrebbe rendere pubblico il suo registro distribuito, quindi il registro delle transazioni. E pertanto ecco, il vantaggio principale poi che Libra, comparandolo alle valute tradizionali che conosciamo tutti quanti come l'euro, il dollaro, insomma le valute fiat cosiddette, sono due. Cosa vuol dire fiat? La valuta fiat in teoria è la valuta legale, a corso legale. La valuta degli stati. Esatto, esatto, come può essere appunto l'euro, il dollaro statunitico. Sì perché ho sentito parlare tante volte di valuta fiat. È quella valuta a corso legale regolamentata da una banca centrale, insomma, che soddisfa poi le leggi dello Stato in cui è vigente. E la differenza principale è proprio l'essere interstatale, quindi il superare il confine geografico, ovviamente è una valuta universale, tra virgolette, a meno ovviamente di limitazioni imposte, perché poi essendo comunque nelle mani di un'azienda, più aziende, come possono essere Facebook e quelle facenti parte della Libra Foundation, è comunque suscettibile a eventuali vincoli, blocchi e limitazioni da esse imposte. Quindi se dovesse arrivare un ente super partes che dice è illegale renderla corrente in questo Stato e loro poi, per seguire le leggi, devono fare quello che gli viene detto, devono comunque limitarne l'utilizzo in quello Stato lì. Non essendo, diciamo, una valuta legata agli Stati, sarà comunque sottoposta alle leggi che gli Stati faranno per consentirne o limitarne l'utilizzo. Esatto, anche se al giorno d'oggi effettivamente le aziende così grosse superano un po' la legge in molti aspetti. Però tuttavia sappiamo bene che quando magari la SEC, piuttosto che gli enti di sorveglianza finanziaria, si decidono di impuntare, a volte è difficile farla franca. Fanno fatica addirittura alcune, ad esempio gli exchanges, le piattaforme che permettono di comprare e vendere criptovalute, sono strettamente regolamentate alcune da questi enti di sorveglianza finanziaria, quindi è difficile svincolarsi del tutto. Senti, abbiamo detto quindi che Libra non è come Bitcoin. Esatto. Bitcoin è un asset investimento, poi sostanzialmente ha anche una valuta che può essere usata, e Libra invece sarà qualcos'altro e servirà probabilmente a scopi differenti da Bitcoin. Quindi a cosa servirà questa Libra? Ma in realtà Libra e Bitcoin nascono con lo stesso scopo, paradossalmente, perché Bitcoin, la definizione stessa di criptovaluta, cioè cryptocurrency, significa proprio un qualcosa che dovrebbe essere speso, quindi utilizzato per procurarsi beni o servizi, per l'appunto una valuta. Libra ha il medesimo scopo, ovvero si pone proprio come valuta per l'appunto borderless, ovvero che non è limitata allo stato in cui è vigente, quindi se io voglio acquistare in Europa, in America o ovunque posso utilizzare Libra e non devo fare conversioni in euro piuttosto che in dollaro, piuttosto che in altre valute. E il secondo vantaggio che magari ci ha sfuggito prima è il fatto di essere istantanea, quindi se io voglio inviare del denaro tramite Libra a un'altra persona dall'altro capo del mondo, lo posso fare tramite la rete, tramite internet, in maniera istantanea, quindi questo bypassa le tempistiche burocratiche che le banche hanno, piuttosto che appunto la burocrazia di conversione, le commissioni che ne conseguono e quant'altro. Bitcoin in realtà nasce proprio come criptovaluta anch'essa, quindi nasce per essere spesa, nasce per essere un'unità di valore a tutti gli effetti. La grossissima differenza che è ciò che fondamentalmente contraddistingue Bitcoin da tutte quelle altre valute esistenti e in primis da Libra, che è un po' la sua nemesi, come dicevamo prima, è il fatto che Libra, a parte il discorso della centralizzazione e quant'altro, è stabile. È una valuta stabile, è una valuta che si basa su del collaterale preesistente. Cos'è il collaterale? Ma un collaterale è un qualcosa che viene convertito direttamente in Libra, cioè fondamentalmente se io ho... Un paniere di altre valute, diciamo. Esatto, se io creo una certa quantità di Libra è perché sotto, come collaterale o sottostante, ho un altro appunto paniere di altre valute, piuttosto che titoli, piuttosto che asset cosiddetti sicuri, che garantiscono che io posso dare quel controvalore lì a chi volesse vendere Libra. Quindi come se io dicessi, un Libra è la media tra un quarto del dollaro, un quarto della sterlina, un quarto dello yen, un quarto dell'euro. Esatto, una cosa di questo tipo. E la sua caratteristica fondamentale è la stabilità. Quindi il suo valore non deve essere in nessun modo volatile, proprio perché è nata come valuta da essere spesa e uno non deve preoccuparsi se detiene Libra, dell'unità di Libra, delle fluttuazioni del suo valore. Questa è una cosa che lo differenzia molto da Bitcoin in realtà. Che invece fluttua. Che invece fluttua parecchio per via della speculazione selvaggia, per via del fatto che comunque ci sono ancora un po' di ostacoli al suo utilizzo e insomma è una tecnologia ancora un po' acerba e che deve ancora prendere piede. Bitcoin infatti non si sta tanto affermando come currency, paradossalmente, nonostante sia nata come tale, ma sta diventando una riserva di valore per fare un esempio quegli stati che stanno subendo tantissimo l'inflazione e vogliono rifugiarsi magari dalla loro valuta fiat che sta perdendo valore continuamente a causa delle politiche monetarie scellerate ad esempio del loro stato, del loro governo. Ed è visto come un bene rifugio perché anch'esso è accessibile a tutti coloro che hanno una connessione internet. Quindi raggiunge un bacino di utenza illimitato. Tuttavia il fatto di promettere, diciamo così, una così grande rivoluzione, ovvero la decentralizzazione che se uno ci si ferma un attimo a riflettere è un qualcosa di mai visto. Cioè il valore, la gestione del valore ed il trasferimento del valore senza intermediari e senza qualcuno che ne governa i tassi di interesse piuttosto che le varie regole col quale viene erogato e col quale viene modificato nel tempo, nonché la possibilità di creare nuova moneta come fanno ad esempio le banche centrali, è un qualcosa di mai visto che pone possibilmente anche le basi per una nuova economia basata su un qualcosa che parte dal basso anziché dall'alto. Ed è questo che si propone Bitcoin. Come tale, la promessa appunto è talmente grande che la speculazione è diventata sovrana, proprio perché aspettative così alte e così grandi generano una corsa, una tra virgolette corsa all'oro di chi se lo vuole accaparrare. Quindi questo genera volatilità e a sua volta genera gli introiti di capitali da parte degli speculatori che vogliono comunque ovviamente giocare sulla volatilità stessa. Senti, invece con Libra questo non è sul tavolo questo ragionamento. Con Libra assolutamente no, perché è una caratteristica, la caratteristica anzi di Libra è la stabilità. Infatti non è assolutamente ammissibile nessun tipo di speculazione. Quindi zero speculazione sarà una valuta da usare, essendo stabile quindi può essere usata nella transazione giornaliera sostanzialmente. Esatto, fondamentalmente tramite Messenger, piuttosto che Whatsapp, piuttosto che Instagram, piuttosto che tutte quelle applicazioni facenti parte dell'ecosistema Facebook diciamo con una semplice icona in più ci sarà la possibilità di inviare delle unità di Libra. Piuttosto che sappiamo che, tu lo saprai meglio di me visto che sei nel settore Facebook, nonché tutti i social ormai stanno diventando dei veri e propri marketplace, dei veri e propri e-commerce a tutti gli effetti, quindi loro faranno pagare poi in Libra. Senz'altro avranno a disposizione una loro valuta comunque da utilizzare in maniera nativa che sgraverà comunque tantissimo loro stessi in primis, perché comunque essendo una valuta digitale, virtuale, non avrà tutta la burocrazia della classica valuta fiat per l'appunto. E quindi sicuramente li sgraverà tantissimo dal punto di vista di commissioni ulteriori, piuttosto che burocrazia per l'appunto e cose di questo tipo. E dall'altro canto renderà molto più semplice l'interazione anche del cliente con il bene che vorrà acquistare, perché appunto direttamente con un click la transazione partirà immediatamente, sarà addebitata subito, accreditata subito, a differenza di ciò che avviene con le carte di credito e la compravendita avviene appunto in maniera istantanea. Senti, ma Facebook cosa ci guadagna? Eh, Facebook ci guadagna tanto perché comunque il mercato di Facebook sta diventando sempre più trasversale, nel senso è nato come social network, quindi fondamentalmente col mercato dei dati e della pubblicità. I dati dell'utente sono un bene, credo, il bene di maggior valore negli anni 2000. Il dato credo che sia ciò che ha maggior valore in assoluto al giorno d'oggi. Ma ancora li vende i dati? Non può più perché ha smesso forse. Ma in realtà venderli no, però se ci pensiamo dal punto di vista del marketing, della pubblicità, l'avere i dati... L'avere i dati permette di fare pubblicità. Infatti la segmentazione sul target pubblicitario di Facebook è la migliore. Esatto, infatti è quella che si fa pagare di più e è la migliore perché proprio ha una quantità di dati maggiore e più trasversale, cioè sugli interessi, sulle persone con cui parla, oltre che la demografia e tutto quanto. Pensa a tutto questo aggiungerci dei dati sul reddito. Quindi magari... Ah certo, quanto spendo? Se uno ti vuol fare una proposta, poi mi immagino che il passo ulteriore di Facebook sarà sempre quello di avvicinarsi di più a una banca, quindi al fornire servizi finanziari. Quindi immaginiamoci il marketing finanziario che Facebook potrà fare ai suoi clienti, sapendo comunque qual è il loro reddito, qual è il valore, la quantità di valore che scambiano, la loro capacità economica, il loro potere d'acquisto. Potrà fornire pubblicità mirate anche su quello, è un dato ulteriore che secondo me ha un valore pazzesco, solo quello. Sentivo, una cosa mi è venuta in mente, sai che Alibaba, che è il colosso cinese, diciamo per chi non lo conosce, una sorta di Amazon cinese possiamo dire, ha avuto questo servizio anni fa, già dai suoi albori quando vendeva da cinesi a cinesi, dove i cinesi siccome non si fidavano a usare carte di credito, non le avevano, depositavano i soldi presso Alibaba che faceva da garante e poi così li pagavano al venditore soltanto quando la merce era arrivata. Quindi come marketplace sostanzialmente. Allora questa cosa poi ha funzionato talmente tanto che è diventato una sorta di sistema bancario, in quanto la gente lasciava depositati i soldi, lui gli dava una percentuale, è diventato il conto corrente dei poveri in pratica. Alipay. Ecco, allora secondo te Facebook punta a un concetto di questo genere con Libra? Secondo me punta molto oltre perché in realtà per la Cina non è una novità un sistema finanziario di questo tipo interamente digitale perché se ci pensiamo loro utilizzano WeChat praticamente per fare tutto, dalla semplice messaggistica fino al pagamento, loro hanno, ci sono penso la stragrande maggioranza dei negozi in Cina hanno i loro QR code che se inquadrati comunque con WeChat permettono l'invio di denaro istantaneo. La differenza è che finora tutti questi sistemi di valore sono molto più limitati e molto più chiusi. Anche Amazon, con il semplice, i buoni Amazon, il credito Amazon, ad esempio all'esse lunga si può pagare con il credito Amazon, cioè ci sono, è un network comunque che permette di utilizzare un credito erogato da una grande azienda che ovviamente deve avere una sua affidabilità e in quanto tale permette depositando soldi oppure facendo un acquisto di credito perché quello che si fa è quello, di usufruire di questo credito digitale in più negozi, in più marketplace e quant'altro. La differenza con Libra è che Libra a tutti gli effetti non è un credito ma è una valuta, ovvero sotto di sé ha un, come dicevamo, un paniere di valute, quindi un controvalore. Io teoricamente lo posso rivendere quando voglio riprendere il suo controvalore. Ok, quindi se io pago con WeChat o se pago col credito Amazon, in realtà è Amazon che sta dicendo io garantisco che poi i soldi te li do, accetta questo credito fittizio ma poi sono io Amazon a garantirti che i soldi te li darò. Se Amazon in quel momento dovesse fallire i soldi non me li dà. Invece con Libra, siccome si basa su blockchain ed ha un paniere di riferimento, io potrò pagare con Libra e dall'altra parte c'è la sicurezza che quello è realmente un valore monetario. Esatto, in realtà quel token lì è convertibile, è vendibile in euro, una cosa che invece il credito Amazon non si può fare. Una volta che ha credito rimane tale, quindi ovviamente il negozio che lo riceverà poi riceverà un controvalore in euro, però è sempre Amazon che ce lo dà. In questo caso invece è direttamente l'acquirente che dà al venditore la valuta Libra e questo lo rende comunque un network molto più ampio, perché è più semplice volendo utilizzare un credito di questo tipo rispetto al dovere ogni volta intermediare. Anche se in realtà poi sotto la differenza non è tantissima, perché comunque essendo una blockchain privata, essendo una blockchain con pochi nodi governati da enti scelti, c'è sempre tanto controllo, però comunque è un qualcosa di verificabile, un qualcosa che è appunto su blockchain, quindi a differenza del credito Amazon che è sul server Amazon che si vede da lì, sulla blockchain acquisisce un valore un po' più concreto volendo, anche dal punto di vista legale. Ho capito. Senti, ora io so che Facebook, in realtà in questa Libra, ha rilasciato un white paper, cioè il documento che dice come dovrebbe tutto funzionare. Esatto. Com'è questo white paper? In che fase è il progetto in base a questo documento? Cioè siamo all'inizio o è già una cosa di definito? Allora, quello che passa dal white paper è un qualcosa di molto vago e generico, nel senso fanno capire comunque le caratteristiche vaghe sempre della blockchain, dicendo che è privata ma vogliono renderla sempre più pubblica senza spiegare molto bene il perché, introducono un linguaggio di smart contract che sono fondamentalmente delle righe di codice, dei programmini che sono installabili, diciamo così, implementabili su blockchain ed immutabili che gestiscono le nostre transazioni secondo regole predefinite, un nuovo linguaggio ad ora mai utilizzato, del quale comunque non rivelano grandi dettagli. Facebook è famoso per i nuovi linguaggi, ne ha, non so quanti ne ha inventati, tipo cento. Ogni volta nella programmazione arriva il nuovo linguaggio che ha fatto Facebook. Esatto, infatti qui non ha fatto eccezione, c'è questo move, l'ha chiamato, che è un nuovo linguaggio di smart contract che dovrebbe essere più flessibile, più semplice da utilizzare, insomma poi vedremo una volta che viene definito con chiarezza. Tuttavia io sono sicuro che il loro progetto è già molto ben definito, anche perché loro di sicuro non si muovono prima di avere tutte le carte in regola, prima di avere già un'idea ben chiara, soltanto che ovviamente non so quanto gli convenga rivelare già tutto un anno prima dell'uscita. Ho capito, non hanno voluto fare una disclosure, non hanno voluto dire, anche perché magari qualcun altro può copiare il progetto, l'idea eccetera. Qualche competitor, ma magari anche semplicemente, cioè il fatto comunque del voler erogare una valuta che superi i confini di stato, che superi le leggi, ovviamente ha attirato l'attenzione dei regolatori, dei governi e degli enti finanziari. Poi arriva un secondo prima, tac, ecco funziona così, brum, partiamo. E il regolatore poi con la sua lentezza burocratica ci mette un anno a dire anche solo qualcosa. Quello e sicuramente loro si porranno, cioè ormai siamo in un mondo dove le società tecnologiche, i grandi della tecnologia come Amazon, Facebook, Google, sono un passo avanti addirittura alle regolamentazioni. Alcuni hanno dei bilanci maggiori di molti stati. Esatto, infatti. E quindi ecco, secondo me vogliono muoversi proprio per avere sempre un vantaggio. Ma è il primo progetto di questo tipo? Che c'è dal punto di vista di una tecnologica che crea? In realtà appunto di criptovaluta intesa come valuta che si muove su blockchain, da quanto mi risulta mi pare di sì. Come credito valuta virtuale, voucher virtuale ovviamente è l'ennesimo progetto di questo tipo. Quante sono le criptovalute in totale? Ma le criptovalute sono un'infinità, sono mi pare più di 3.000 attualmente e anche io se stasera mi gira potrei crearne una. Ma è proprio il bello delle criptovalute ed è proprio ciò che Libra non fa, nel senso l'apertura. La criptovaluta è nata come sistema aperto. Chiunque può creare la propria economia partendo da zero e poi sarà soltanto l'utilizzo che ne decreterà il valore. Cioè se io che ho magari la mia, non lo so, una piccola azienda piuttosto che decido di fare cose, erogo la mia valuta, la mia criptovaluta e gli do un valore basato su ciò che faccio e la gente decide di utilizzarlo per comprare i miei servizi, per utilizzare una mia piattaforma o magari poi altre piattaforme decideranno di utilizzare e di integrarsi con la mia e utilizzare la mia valuta, sarà un'economia locale che avrà avuto successo e il valore di quella valuta sarà proporzionale proprio alla domanda e all'offerta e alla fine è mercato. Invece appunto Libra è un qualcosa di imposto, nel senso arriva dall'alto, è deciso, è così, è collateralizzato dal paniere di valute sottostanti, il suo valore è quello lì, punto. E quindi si torna sempre al discorso di prima della differenza. Senti Libra quindi abbiamo detto è un progetto nuovo di cui sappiamo ancora non tutto e che potenzialmente può cambiare le carte in tavola in alcuni settori, vedremo se sarà veramente così e una volta che sarà così magari tanti lo copieranno, chi lo sa vedremo. Sicuramente sì. Però è comunque una criptovaluta del futuro perché ancora non ce l'abbiamo. Esatto, si parla di metà 2020 nel white paper dicono così. quindi lo vedremo in un futuro. Però attualmente quali sono, se quella è una criptovaluta del futuro, quali sono le criptovalute del presente invece? Se si parla di criptovalute tutti quanti conoscono Bitcoin che è dal 2008-2009 in realtà è stato minato, creato il primo blocco, è nata la blockchain nel 2009 e è il padre delle criptovalute, è ciò che ha dato il via al movimento. L'idea iniziale. Esatto. Perché comunque continua a funzionare, non hanno pensionato, a volte il mondo viene messo in pensione. No, no, anzi, è altro che finora è assolutamente il sovrano indiscusso anche perché è dove c'è più sviluppo, è dove c'è più community. Alla fine le criptovalute si basano molto, come dicevamo prima, sul cosiddetto network effect, ovvero più sono utilizzate, più hanno user base e più acquisiscono valore proprio per la legge del mercato, domanda e offerta. Ma cos'è che decide che un Bitcoin costa 100, 1000 o 10.000 euro? Eh, la domanda e l'offerta, quando c'è più domanda che offerta il valore sale, quando c'è più offerta che domanda il valore scende, poi dietro c'è tutta un'economia se ci si va a vedere. È come se l'azione di una società in sostanza. In realtà è più una commodity forse che un'azione, perché all'azione poi si va a vedere il bilancio della società, i dividendi, c'è tutto un discorso più complesso. Mentre il Bitcoin è forse più paragonabile, non lo so, a un bene, una materia prima, ma neanche tanto, perché poi c'è un'economia a parte. È un asset, secondo me, difficilmente paragonabile con quelli classici, perché abbiamo da un lato l'essere una currency, ovvero una valuta spendibile. Io con il Bitcoin posso acquistare beni e servizi, a chi ovviamente me lo fa fare. Adesso si stanno creando dei portali, addirittura delle carte di debito, che permettono di spendere Bitcoin in qualsiasi negozio, pagando una commissione di conversione. Alla fine è come se li vendessimo lì nel nostro negozio, direttamente nella valuta euro, dollaro, quello che è. E oltre all'essere currency abbiamo appunto la domanda e l'offerta, quindi come se fosse oro, immaginiamoci, il cui valore è dato dalla scarsità, dai costi di estrazione e dalla domanda e l'offerta. Non è molto diverso per il Bitcoin, perché in realtà abbiamo la scarsità data dal fatto che la quantità massima di Bitcoin esistenti, anche nel futuro, è predefinita e sarà quella, è decisa dal codice, da un algoritmo, quindi è immutabile. Abbiamo i costi di estrazione, perché c'è tutta dietro l'economia del mining, sulla quale si potrebbe aprire un mondo. Fondamentalmente il valore iniziale di Bitcoin, quando è nato, è dato proprio dal costo, dal voler ripagare in un certo qual modo il costo energetico che colui che vuole sostenere la rete di Bitcoin deve appiopparsi per tenere in piedi il suo nodo. Si tratta di calcoli matematici, giusto? Quindi questi calcoli matematici necessari per creare nuove monete sono fatti da computer e questi computer consumano corrente elettrica. Sì, fondamentalmente bisogna ripagare questa corrente elettrica. Se io volessi iniziare a estrarre Bitcoin, proprio nella maniera più grezza possibile, non acquistarli sul mercato, ma volerli estrarre, perché magari si andrebbe troppo sul tecnico, però semplificando le cose, diciamo che a intervalli regolari vengono erogati nuovi Bitcoin fino al raggiungimento del limite massimo, che sarà 21 milioni quando nel 2100 e passa, quindi nel lontano futuro. Questi Bitcoin che vengono erogati sono erogati a colui che riuscirà a risolvere un calcolo matematico estremamente complesso, che richiede tantissima potenza computazionale. Quindi si è creato un fenomeno di aggregazione, perché ovviamente io con il mio computer, ma anche se avessi dei computer superpotenti, in confronto all'intera rete Bitcoin non sono comunque nulla. Quindi occorre per forza di cose aggregare la potenza di più persone. Si creano i cosiddetti pools. Questi pools vanno a competere per chi risolve per primo questo calcolo matematico complesso, che richiede tantissima potenza che alla fine si tramuta in elettricità, in costi di elettricità, e il primo pool che risolve il calcolo riceve la ricompensa, ogni tot, ovviamente ad ogni nuova erogazione potrebbe anche esserci un pool diverso, è un nuovo calcolo con un nuovo concorso, e poi lo elargirà in maniera proporzionale a tutti coloro che hanno partecipato, in base alla potenza che ci hanno messo. Quindi c'è tutta un'economia, diciamo, dietro alla creazione di nuove monete Bitcoin. Esatto. Ma il Bitcoin è più un genere di investimento tipo l'oro, o è più una valuta per pagare la spesa all'esse lunga tipo l'euro? Attualmente, dal mio punto di vista, è un asset, quindi è una valuta nel senso che si può utilizzare come tale, però io non trovo tantissimi incentivi all'utilizzo, proprio perché comunque penso che la stragrande maggioranza delle persone che investono, hanno investito, vogliono investire in Bitcoin, lo fanno vedendo il potenziale che ha, quindi vedendo il suo valore futuro crescere. E questo chiaramente si contrappone all'inflazione che è ciò che invece incentiva a spendere una moneta. Adesso, perché all'inizio dell'anno c'era stato un calo di Bitcoin importante. Altro che calo, sì. E quindi è scoppiata una bolla, qualcuno diceva. Sì, fondamentalmente il valore di Bitcoin ha sempre seguito dei profili da bolla, nel senso che è stato un susseguirsi di più bolle. Se noi andiamo a vedere, ci sono quei classici andamenti di aumento parabolico del valore, esatto, e poi ovviamente al quale segue un crollo. E adesso in che fase siamo? Adesso siamo in una fase ancora di aumento parabolico, perché abbiamo avuto un crollo in passato, cioè recentemente, in realtà all'inizio del 2018, che si è protratto per tutto l'anno 2018, che è stato un anno di calo assoluto, arrivando fino ai 3.000 e poco più dollari, rispetto ai 20.000 iniziali. Da 20.000 è passato a 3.000. Esatto, è stato un bel calo, che comunque è un livello maggiore rispetto alla baseline precedente, diciamo così, che era della metà. Quindi se andiamo indietro di un anno, il valore su cui si era stabilizzato era la metà. Ho capito. Senti, e adesso quanto vale in questo momento? Adesso vale 11.000, 12.000. Adesso è talmente volatile, in particolare in questi giorni, che si fa fatica a starci dietro. Però siamo in una fase di aumento parabolico, perché il valore è triplicato nel giro di pochi mesi, quindi sicuramente si ripeterà per l'ennesima volta lo scenario di una nuova bolla. Ok, senti, però Bitcoin non è l'unica criptovaluta attiva. Esatto. Quali sono le principali? Ma le principali per capitalizzazione, ovvero per capitali presenti in esse, per quantità comunque movimentate sul mercato, c'è Ethereum, che si contraddistingue da Bitcoin, cioè è nata, contraddistinguendosi un po' da Bitcoin, principalmente per creare un, diciamo così, computer decentralizzato. Bisogna specificare un po' questo… Sì, perché la usano come per memorizzare dati, per validare… Praticamente Ethereum nasce come… Ethereum è una rete, un'infrastruttura, una blockchain a tutti gli effetti, sulla quale si può scrivere codice, immaginiamocelo così. Io posso scrivere un programma che viene definito appunto smart contract, ovvero un contratto a tutti gli effetti smart, nel senso che si autoesegue, definito dalle righe di codice che io scrivo in un linguaggio proprietario della rete Ethereum che si chiama Solidity. Io scrivo questi programmi, li metto su blockchain e questi programmi rimangono lì immutabili. Io sono certo che il codice non lo altererà mai nessuno, non si può modificare, non ci si può far nulla, si può solo crearne un altro, non lo si può neanche cancellare nella maggioranza dei casi. E servono per… Per lo spostamento del valore. Praticamente immaginiamoci un semplice atto di compravendita dove adesso ci vuole un intermediario, come non lo so, l'acquisto o la vendita di una casa o di un'auto o di un bene molto costoso. Con lo smart contract io ho la garanzia che nel momento in cui io invio la valuta, dall'altro lato mi viene dato, ovviamente se questa cosa è digitalizzabile, è tokenizzabile, anzi ovvero trasponibile sulla blockchain, l'atto di proprietà. Un notaio digitale. Esatto, una sorta di notaio che però non prende ovviamente le commissioni, quindi si taglia l'intermediazione. Quindi abbiamo da un lato, da un lato abbiamo, come si chiama la criptovaluta iniziale? Bitcoin. Bitcoin, l'Apsus. Allora, Bitcoin abbiamo detto che è un asset principalmente di investimento, poi abbiamo Ethereum che è comunque un asset di investimento e in più abilità delle funzioni speciali, diciamo, per cui uso la sua rete per fare delle cose… Esatto, poi l'Ether stesso che è la criptovaluta che si utilizza sulla rete Ethereum, il valore da cosa è dato? Dall'utilizzo delle risorse della rete, quindi si paga in Ether la pesantezza, diciamo così, del programma che io faccio girare. Ho capito. Senti, e ce ne sono altre oltre queste… Ce ne sono a migliaia, in teoria… Le principali oggi secondo te? Abbiamo Litecoin che è sempre una delle più capitalizzate, che però in realtà è una copia, diciamo così, di Bitcoin con delle caratteristiche tecniche diverse sulle quali non starei neanche a spendere troppe parole. In teoria le criptovalute dovrebbero seguire un processo di evoluzione naturale, io la vedo così, con molto darwinismo, nel senso che ovviamente chiunque può creare la sua può creare anche un clone di quella già esistente, poi vince quella che viene più utilizzata. Che magari è leggermente diversa, poi si vedrà se è meglio che la piccola diversità. Esatto, che può essere appunto un piccolo tecnicismo piuttosto che una grossissima implementazione ulteriore che può fare la differenza. Di quelle 3.000 e oltre che ci sono, penso che il 99% siano completamente inutili o brutte copie di altre, quindi siamo ancora in una fase molto degli albori, molto embrionale delle criptovalute, nella quale dobbiamo ancora selezionare, capire bene e per questo motivo attualmente penso che la stragrande maggioranza dei capitali che si muovono sulle criptovalute sia speculativo. Sai, quando Facebook a suo tempo era già un social network affermato, il primo forse di massa, molto affermato, poi è entrato Google che ha detto, ah faccio Google+, adesso ti schiaccio io che sono più grosso di te, io sono Google, ho fatto Google+, va bene, poi l'anno scorso mi sembra stato chiuso definitivamente il progetto Google+, perché la gente era su Facebook, quindi bisognava tirare fuori la gente da Facebook e portarla su Google+, qualcuno per un po' li ha tenuti tutti e due, dopodiché hanno detto che cazzo vado su Google+, che non c'è nessuno, il resto su Facebook, è come Whatsapp, tutti hanno Whatsapp, è inutile provare un altro sistema. E poi Facebook ha fatto la furbata di acquisire Whatsapp, Instagram, insomma. E poi man mano che Google+, diceva io mi distingo perché io faccio questa cosa in più, il giorno dopo la faceva anche Facebook. E meglio. Ecco, quindi non ha funzionato. Allora, nello stesso modo forse esiste oggi un Bitcoin che è comunque, diciamo, la valuta principale, la cripto principale e quindi c'è anche un problema di massa critica, quella la conoscono tutti, sono tutti lì, forse è la criptovaluta misteriosa, però quella che farà Facebook, che è Libra, con la potenza di Facebook può darsi che venga fuori. Tu cosa ne pensi? Sicuramente, io non li vedo come competitor proprio perché comunque nascono su due principi diversi, cioè Facebook arriva dall'alto mentre Bitcoin nasce dal basso. Bitcoin è un qualcosa che nasce come alternativa, come possibilità di scegliere alla valuta dello stato in cui si vive, piuttosto che un qualcosa di non governato, di non regolamentato, un qualcosa che veicola il concetto di libertà. Mentre Facebook con la sua Libra fa un qualcosa di chiuso, un sistema chiuso contro un sistema aperto, un sistema centralizzato contro uno decentralizzato. Quindi se ho capito bene Libra non è alternativa a Bitcoin, ma è alternativa al dollaro. Esatto, fondamentalmente è così, è alternativa al dollaro, alla valuta fiat, laddove vogliamo farne un utilizzo più smart, cioè il dollaro ma anche le carte di credito, sono sistemi finanziari che non sono nati per l'era digitale. Quindi Libra mi diventa un surrogato temporaneo del dollaro e dell'euro che lo abilita a fare delle cose più belle, più comode, più veloci, più digitali e in qualche modo va a soppiantare, lui vorrebbe andare a sostituire l'uso dell'euro, del dollaro, eccetera, eccetera, nelle piccole transazioni quotidiane. In realtà è una moneta che è nativa digitale a tutti gli effetti, che supera quei limiti che adesso non hanno più senso, perché abbiamo l'internet, abbiamo la rete e pertanto è veramente paradossale parlare di una moneta diversa per ogni Stato quando siamo tutti connessi ed è possibile fare un acquisto in Cina con un click. Quindi diciamo che se adesso nel consortio ci sono dentro Paypal, Mastercard e chi altri, vuol dire che quando uscirà un minuto dopo si potrà usare nei post forse nei negozi. Ma in realtà lì è da vedere che direzione vogliono prendere. Attualmente io credo che vorranno implementarla ovviamente nei social network, nei social media di Facebook e immagino nei principali e-commerce. A me pare di aver visto anche eBay, Uber, i principali fornitori di servizi. Pertanto immagino che partirà da lì e poi si espanderà, poi si vedrà come e se gli gli enti di sorveglianza finanziaria la ostacoleranno, la vorranno escludere, tagliare fuori. Insomma è veramente tutto da vedere ancora. Staremo a vedere. Senti ma su The Crypto Gateway ne parlerete comunque? Ma sicuramente sì anche perché è un fenomeno che sta facendo conoscere al mondo intero le criptovalute. Pensa che mio fratello che si laurea la cattolica in economia quest'anno gli ha proposto di fare una tesi proprio su Libra e io gli ho detto bene sfrutta Libra però per parlare anche di Bitcoin perché è proprio questo che io spero. Io spero che Libra darà tantissima luce riflessa a tutta l'infrastruttura e la tecnologia che la blockchain e le criptovalute permettono. Ah beh interessante non ci avevo pensato. In effetti quella è una valuta che verrà usata come utilità quotidiana però potrebbe aprire, diciamo mostrare al grande pubblico, alla massa che cos'è una criptovaluta. Potrebbe dare popolarità a Bitcoin e a tutto ciò che c'è dietro. Magari una persona che non lo so non può permettersi un conto bancario, non può perché vive nel terzo mondo e magari ha la connettività web però non ha la banca, non ha le possibilità di aprire un conto bancario, può utilizzare Libra perché è anche questo lo scopo di Libra, il cosiddetto bank di unbanked ovvero di permettere a tutti di fruire di servizi finanziari. Lì c'è il wallet che fa Facebook. Lì c'è il wallet che si chiamerà Calibra, apparentemente si dovrebbe chiamare così e comunque magari appunto penseranno di avere una maggior libertà finanziaria con questo strumento ma si accorgeranno che non è così perché comunque è una valuta controllata. È solo più comodo da usare. Esatto, è più comodo da usare però non garantisce la stessa libertà che invece dà Bitcoin e magari step by step si arriverà a scoprire anche quello e a capirlo. Come al solito Facebook farà delle cose belle, facili da usare, coinvolgenti, ti faranno un'app megagalattica che è più bella di quella della tua banca. Sicuramente sì, anche perché lì penso che abbiano le maggiori risorse al mondo e la user base di buoni miliardi di utenti. Speriamo che comunque rappresenti un valore un po' come dici tu per il fatto che darà luce a un settore e un po' perché comunque magari abiliterà persone che non hanno modo di accedere alla banca ad avere comunque un sistema pseudobancario. Sicuramente io lo vedo come un passo avanti, su quello non c'è ombra di dubbio dal punto di vista finanziario perché magari obbligherà anche le banche a svegliarsi un po' e a uscire dal medioevo nel quale si trovano. Speriamo. E per Bitcoin perché comunque appunto gli darà secondo me tantissima luce riflessa, farà capire che quello non è tutto ciò che si può avere dalla blockchain ma si può avere davvero tanto di più la libertà finanziaria, la sovranità monetaria e concetti che finora ci sono totalmente stranei. Certo, certo. Bene, senti, allora se vogliamo avere aggiornamenti su queste cose veniamo su The Crypto Gateway. Mi trovate sì su YouTube principalmente che cerco di fare video con Costanza. C'è il canale che si chiama The Crypto Gateway. Esatto. Altrimenti ho la pagina Facebook, insomma un po' di social che poi cercando semplicemente su Google The Crypto Gateway trovate un gruppo di discussione dove ci si confronta, tutto quanto gratuito. Io non vendo nulla, non voglio propinare corsi né niente di questo tipo e pertanto insomma mi trovate lì. Va bene, allora rimaniamo aggiornati venendo su YouTube e sulle varie pagine community social. Volentieri, vi aspetto lì. Senti, allora Luca è stato veramente un piacere, ti ringrazio moltissimo e alla prossima. Grazie a te, il piacere è stato mio. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao.